Come nel gioco dell'OCA, nel caos menze a Pescara si torna sempre al punto di partenza. Ieri infatti la CAMST ha formalizzato il suo no alla richiesta di interpello avanzata dal comune di Pescara affinché prendesse in carico il servizio di ristorazione delle menze scolastiche cittadine in qualità di seconda ditta classificata in sede di appalto vinto in origine. Dal lato i Cirfood Bioristoro, il cui contratto però è stato risolto anche in conseguenza della tossinfezione alimentare che ai primi di giugno ha portato al ricovero di centinaia di bambini e ragazzi pescaresi che frequentano le scuole cittadine. Dunque tutto da rifare per l'amministrazione comunale che ha fatto partire la richiesta di interpello alla terza ditta partecipante alla gara, alla serenissima ristorazione, ma tutto fa pensare che senza un accordo sindacale a ribasso per i lavoratori anche quest'ultimo tentativo non avrà esito positivo. Il no dei lavoratori alla riduzione di orario e all'accordo con la CAMST pesa, le maestranze un centinaio non vogliono essere le uniche a pagare lo scotto di questa situazione caotica con una riduzione del salario che ad oggi varia tra i 300 e i 500 euro. Dal canto suo il comune deve fare presto perché la pressione delle 2.500 famiglie rimaste senza mensa con tutti i problemi che comporta diventa sempre più grande. Il comune in una nota fa sapere di sentirsi parte lesa al pari delle famiglie, ma è chiaro che proprio in capo all'amministrazione pubblica aspetta l'obbligo di risolvere una problematica che incide pesantemente sulla gestione scolastica delle famiglie. Ieri pomeriggio si è svolta una riunione con i dirigenti dei 10 istituti comprensivi cittadini in cui è stato fatto il punto della situazione e al contempo sono state riferite le istanze presentate dai genitori circa la sospensione del tempo pieno e altre forme di organizzazione per la somministrazione dei pasti ai bambini. Però lo spettro di un nuovo bando di gara da mettere in campo è più concreto di quanto si pensasse in estate e i tempi della ripresa del servizio mensa Pescara potrebbero dilatarsi ben oltre il 2018.